Andiamo su Yosuerpane, ah si andiamo subito su Yosuerpane, dai, so agitato eh, so agitato, voglio andare subito su Yosuerpane Yosuerpane è una hit, Yosuerpane è clamoroso, Yosuerpane è uno dei migliori giochi degli ultimi 15, ma come regà, ma che è? Madoo, guarda quanto è complicato, mangiare il pane, come commestibilità 100%, che devo fa? Guarda il pane quanto è complicato da far muove, porco dio ma, che devo fa, mi devo fa, mangiare praticamente Cioè, ma dimmi, dimmi cosa devo fare nel gioco, no, 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 ah, quella è la mia vita, la commestibilità in alto a sinistra Ma vaffanculo a tua madre quella troia, mangiacazzi, porco dio sto a crepà, no, no, sali sulla cosa, mille Q, ah beh, perché invece è commestibile un pezzo di pane so... Immangiabile, hai sbloccato un nuovo trofeo, io non sono un toast, F Dentro al tostapane devo entrare, come devo entrare dentro al tostapane? Porco dio, e dove sta? Ecco, porco dio, guarda dove sta il tostapane, sta grosda, no Ma che è? Fagioli Porco dio, e questo è ancora un problema Se tengo solo R2 R2, R1, no, R2, R1 mi serve, R2, R1, lascia R2, R2, R1 Il miglior toast degli ultimi... Allora, l'importante è non dove cadena altra volta, se casco crepo Teoricamente potevo passare tramite il frigorifero Ciao Giamo, vorrei un panino al vetro con un po' di polvere e sdrogo Sì, sì, è questa la stream giusta per un bel panino al polvere e sdrogo Allora, R1 è il... No, mamma mia No, ragazzi, crepo un altro... Ma perché so crepato? Ma quello è un pezzo defesa di tacchino Perché? È buona E formiche Allora, mo do cassa attenti a e formiche Vedi che c'è stanno e formiche Mo noi non potemo cascappare di qua Quindi noi dovemo passare... Mo dovemo passare così Mo dovemo ballare contrario Salimo sul jenga Salimo sul jenga Ok So fortissimo No So il mago So il re di tutti i re No, 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 non ti aprire troppo Frigorifero Sali sul muro Sali su quest'altro muro R1, R1 Bravo L2, R2 Bellissimo Sexy Mostruoso E logico Il mostro di tutti i siti Di tutti i panini Chi è? Altro che ciccio che per me Fa una pompa Porco Dio Tornate a giocare forte Se entro nell'acqua Mi pio una crepa Sì Guarda che mossa L2, R2 No, no, no L1, R1 E passo sul muro Magra Magra Aggrappate Figa di Cristo Beh Oh Musi damo No, la pappa del cane No Porco Dio No, no Sali 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 Dio cane Bravo, bravo Sei il mago Sei il re di tutti i re Sei il mostro sacro Sali L2, R2 Ok R1, R1 No, frate I padelle Non ti inventa cose strane R1 R Non Sei fermato Sei bloccato È completamente bloccato È bloccato Che è successo? No, zine Te prego, eh Non mi far bestemmi Perfetto 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 Qui fai R1 L2 R2 Ti attacchi di qua L2 così Fai così L1, R1 Sali da star tra parte Così Preciso Te ti Niente No Ah, te prego Ti prego Ti prego L1, R1 L1, R1 Mi viene l'ebola No, no No, porco Dio Lo disinstallo Lo disinstallo Lo disinstallo Oh, eh Torniamo Oh, oh Teoricamente lo posso muovere in maniera tale da farlo mettere in orizzontale Vaffanculo! L'obiettivo è cuocerlo Sta a te capire come tu un blu occhiolino Quindi l'obiettivo è effettivamente cuocere il tosto ogni volta Quindi devi capire ogni volta come si cuoce un tosto Il tosto parte lo stesso GG ormai l'ho capito L1 e mi attacco al muro di qua Olè L1 R1 L2 R2 L1 R1 L2 R2 L1 R1 L2 R2 L1 R2 Teoricamente ve lo posso Teoricamente mi posso fare da tutto il muro senza problemi Ha levato No ragazzi E mo Eeeh Già mo io sto gioco lo ho finito Puoi cuocerlo in un sacco di modi In sto livello io lo avevo fatto cuocere sulla lampadina Occhio all'aderenza mano a mano cala e si stacca Ah cazzo l'aderenza Ma porco di dio Siiii Occhio all'aderenza mano a mano cala e si stacca Certamente grazie amico mio che me l'hai detto 81 volte Grazie grazie Porco dio poi poi porti pure male Poi porti pure male mortacci Tu a svegliate freddo sveglia Sono i beat doppi, signor Tocco. Non credo che si mettano a mandare due volte la stessa cosa. Come ci stanno i beat doppi? Pensavo, porco Dio, che due volte dicevano la stessa cosa i beat. Beccati questi beat doppi per il meme. Grande estremile mensale. Porco Dio, porco. Grazie, cazzo. Meno male che me l'avete detto. Porco Dio, guarda se devo andare a morire. Giammo sono sempre io. L'ho fatto cuocere sulla lampadina gli ultimi livelli. Me ne frega un cazzo! L'ho capito che l'hai fatto cuocere sulla lampadina. Io lo voglio far cuocere sulla tv. Sti cazzi che l'hai... Ecco perché ogni tanto la cam si trova dietro il pc. Regà, sto inculato. Non posso salire in nessun modo. L2 di qua. Giri e te riarsi di qua. Oggi quante volte hai... Non lo so, chiedi la tua mano. No! Lascia L2, lascia il libro! R2. R2. R2 e sali qua. Giammo io sto gioco l'ho finito. E qua l'ho fatto cuocere sulla lampadina, non nella tele. Giammo va che è facile, sto a livello. Io l'ho fatto cuocere sulla lampadina. Veramente la mamma puttana c'avete, porco Dio. Io devo riprendere pure un po' di salda. Sai che cuocerlo sulla lampadina sarebbe un'ottima idea. R1, R2. R1, R2. L1, R2. R1, R2. R2, R2. R2, R2. R2, R2. R2, R2. Te consiglio da te. Anche se io l'ho fatto cuocere sulla lampadina. R2, R2. R2, R2. R1, R2. R1, R2. Lasci perde e ti riprendi l'aderenza. Poi L2. Bam. L2, R1. Tagliati la barba. Boom. Bam. Bam. R2, R1. L2, R2. R1, R1. L2, R2. R1, L1. R2, L2. R1. Porco Dio sono Spider-Man. Porco Dio sono Spider-Man. Porco Dio sono Spider-Man. Guarda quanto cazzo sono Spider-Man. Sto a bullato di Spider-Man. Bam. Non casca. Facile. Facile. Benvenuti a tutti. Basta farlo cuocere la lampadina. Basta farlo cuocere la lampadina. Già, non mi pare di capire ci sia una lampadina su cui farlo cuocere. Porco Dio, guarda che casco. No, casco. No, L2, R1. Già, non prova sulla lampadina. Non andare sulla film. Prova a prendere dentro. Ti schilla il cervello. U, U, I, R3. I, R3. I, R3. I, R3. I, R3. È molto semplice. C'erano cuocere sulla lampadina. Ma io, che l'ho finito, posso dirti che l'ho fatto cuocere sulla lampadina. I, R3. Porco Dio, sono mostruoso. Io ho fatto cuocere la lampadina nella tele sopra la stufa, ma non me l'ha dato buono. No, ragazzi, sta prendendo fuoco. No, ragazzi. Già, mostro, livello è facile. No, ragazzi. Io l'ho fatto cuocere con la lampadina. No, ragazzi. Io però l'ho fatto cuocere sulla lampadina. Ah, ma perché devo girarlo? Già, mostro, livello è davvero facile. Ah, basta farlo cuocerlo sulla lampadina. Non so se te l'hanno già detto, ma potresti farlo cuocere sulla lampadina 9? Giammo prova sulla lampadina, non andare sulla TV. Grazie a tutti.